Il sovraffollamento delle carceri si sta ridimensionando sia a livello nazionale che regionale, ma sconfitto il sovraffollamento la qualità della vita sta migliorando? No purtroppo, questo a causa delle strutture fatiscenti e della lentezza degli interventi di ristrutturazione. Il garante regionale ha iniziato una serie di sopralluoghi negli istituti penitenziari, prima tapparezzo a seguire Prato, Lucca e Pisa. In Toscana sono presenti 18 istituti penitenziari con una capienza di 3.345 posti a fronte di 3.371 carcerati. Solo 8 strutture su 18 sono oltre la capienza, poche le donne, tanti stranieri e tossicodipendenti. È ingiusto che l'amministrazione penitenziaria chieda alla regione, ai comuni interventi, progetti di reinserimento sociale e nelle decisioni strutturali faccia da sola. Questo mi pare che è una cosa inaccettabile. In buona parte si tratta di strutture di vecchia definizione, di vecchia concezione e anche gli istituti di più vicente concezione, cioè costruiti negli ultimi 30 anni, 20 anni per intenderci, sono istituti che manifestano dei deficit, dei grossi problemi di manutenzione straordinari. Intanto l'ospedale psichiatrico di Montelupo chiuderà entro la primavera. Entro il 31 marzo. Vogliamo essere pronti per questa chiusura e ragionare invece su un futuro che sia quello di una sorte diversa per gli internati. A Lucca il problema è dove tenere i colloqui. I detenuti familiari ad Arezzo per spostarsi da una sezione all'altra servono gli stivali per la grande quantità di guano di piccione. A Sollicciano, a Firenze, è forte il problema della recidiva. L'85% dei detenuti tornano in carcere ma con progetti personalizzati di reinserimento la percentuale si abbassa. Noi abbiamo una legge nazionale che è la 381 dove gli enti locali, gli enti pubblici in generale, anche le aziende sanitarie possono fare gare rivolte alle cooperative sociali tipo B che assumono fra i soggetti svantaggiati anche gli ex detenuti. Alla Dogaia di Prato ci sono 646 detenuti per 613 posti. Continua a permanere un forte sovrannumero con problematiche diverse perché si tratta di detenuti di etnie e di caratteristiche giuridiche diverse. A Livorno il carcere è in avanzato stato di degrado e il nuovo padiglione sarà destinato solo all'alta sicurezza con detenuti dunque che verranno trasferiti da tutta Italia. Questo sostanzialmente ha messo in crisi profonda la casa circondariale perché le strutture che attualmente ospitano i detenuti che non sono più di 100 sono strutture fatiscenti. A San Gimignano la questione è strutturale, il carcere è stato costruito in pratica fuori dal mondo. È costruito in un posto impossibile, non c'è acqua, è stato scavato un pozzo, l'acqua non era potabile, lì il problema non si risolve forse se non chiudendo il carcere dicendo si fa da un'altra parte.